eccoci qua amici diacoloniani siamo qua per la secondo video di oggi tecoco des rondes siamo e per vedere questo set di dia woman pilot set ed è un set che ovviamente dovrei aprire farvelo vedere un secondo un attimino meglio mi scuso se non lo faccio ma per la ragione semplice che forse lo rimanderò indietro ad amazon sono un po indeciso perché comunque mi è costato più di 3000 yen che sono 26 25 26 euro anzi forse di più anzi siamo quasi sui 30 e insomma per un set così mi sembra un attimino tantino e insomma per tante questioni personali che adesso non sono proprio al massimo per quanto riguarda le finanze e non so cosa fare ci penso su qualche giorno intanto vi faccio una carrellata veloce su questa scatola che comunque vista da fuori che se questo comunque lo comprate avrete dentro la moto con un colore un po diverso delle moto fino adesso con colore così tipo rame e allora una dianauta tuta bianca una tuta nera mi sembra di essere veramente vedere i micronauti col baron kaiser eccetera e poi altre due che sono mischiate una che la parte sopra nera e l'altra che c'era bianca l'unica e questo un po mi spiace a cui hanno messo il viso scoperto c'è chi si vede proprio che una donna e questa qua quella più sulla sinistra io personalmente avrei preferito un altro due col viso scoperto come lei invece che è solamente una beh si vedeva di più che era una che era una donna vabbè comunque è un bel set e niente da dire la scatola dietro così così eccetera però insomma quasi 30 euro per me sono un attimino tanto poi dipende uno che gli da che valore può dare un set così ok è una presentazione molto facile scusatemi sono aperto e comunque ci vediamo alle prossime prossimi video ciao ciao brava gente i prossimi video ciao